No Forse per la lunedì mattina in mezzo dalle nove alle dieci circa Quello che ti ha fatto il primo non lo so due non lo so grazie fabione E sono sempre in top 10 in tutte le partite sono in top 10 Si si tramando lì poker non ti preoccupare non ti preoccupare Si c'è ancora parco giochi certo 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 Si ripunta ragazza la torre di xuder Vediamo se qualcuno ha avuto la mia stessa idea Sembra proprio di no si ricomincia ragazzi ultima partita per la mia solo showdown Settima partita per la precisione poi giochiamo con i donatori ci divertiamo un pochettino in squadra raga Subito un vampa fucile blu e uno scildone da 50 Ok Non c'è nessuno c'è il cesto là in fondo Ok Pistola va bene Serve subito trovare un cecchino giocandola come la sto giocando adesso Indispensabile trovarlo subito Niente c'è purtroppo Momentanamente prendiamo il kit medico ma non ci serve tanto Colpi della pistola di nuovo Fucile a pompa Fidiamo la pistola Impostanza lontana la safe Bisogna fare il giro non mi fermo neanche a luttare Devo trovare subito un cecchino Altrimenti sono rovinato Dai che andiamo E il video delle otto non è uscito raga Non mi dire che non è uscito il video delle otto scusami Spada che sto guardando Magari non lo hai ancora visibile No è uscito ha fatto tanta visual in otto minuti Sparano di già raga attenzione Però stanno fightando tra di loro Andiamo a prendere il chest Gigi Farai una cosa del genere So che devo andare a meno sgamo Ma secondo me vado a dare un'occhiata a questa casa Materiale al volo mi prendo un portale Me ne vado Un po' rischioso andarsene col portale Forse facciamo troppo bordello Una luttatina veloce alla prima sala Mi serve un cecco Mi serve un cecco Non ha senso tenere il medikit Per come sto giocando in queste modalità Un minuto e 35 Punto a tagliare giù così Voglio evitare di prendere il portale Che farebbe troppo rumore Al materiale ci pensero dopo Vai 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 taglia che fai Non fai macello Le armi Qualcuno ha preso già il mio portale Dietro di me Lasciamo perdere Non mi interessa Attenzione Attenzione Andiamo 50 secondi Oh estremo No ma non posso prendere il senso Prendere il materiale Mi serve un cecchino Sennò sono rovinato Non posso neanche tentare Di chi la reggente Attenzione Ah il not 9 Ops Eh vabbè ho sbagliato Sono propenso Lasciare il vampa A tenere la mitraglia Vado con la mitraglia Andiamo Andiamo così Vai che andiamo Vai che andiamo Forza così 3 minuti Un pelo di materiale Almeno per arrivare a 300 Anche se mi sarebbe piaciuto Dare un'occhiata Al labirinto Che è loot Quindi non lo guardo Neanche attenzione Vai 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 Attenzione così Attenzione così Raga Forza C'è gente che builda di là Salendo sulla montagna Ok cerchiamo di non preoccuparci Nel momento Avrà ovviamente Luttato già qui Puntiamo un giro Un pochettino più largo Attenzione da qua Passiamo dalla gola raga Con in mano la mitraglia Siamo dentro in 34 Non dovrebbe prendermi la safe Dai che andiamo Dai che andiamo ragazzi Forza 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 così Buona Mi sembra di aver sentito rumore Me lo sono immaginato Potrei dare un'occhiatina Velocissima qui Fucile a pompa bianco Non mi interessa Ho assolutamente bisogno Di un cecchino Qua deve essere già tutto loot C'è già stata gente Speriamo che se ne siano andati Vediamo Se siamo fortunati Li prendiamo alle spalle Facendo sempre un giro largo Siamo dentro in 27 Forza Non posso fermarmi C'è la safe 50 secondi Andiamo di stare Il più larghi possibile Per quanto Riusciamo ad allargarsi Senza rischiare Di essere presi dalla tempesta La tempesta che sta purtroppo arrivando Non posso più Azzardare nulla Bisogna andare giù via dritti Vai 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 30 secondi Sì ce la facciamo entrare senza essere toccati Dalla tempesta Siamo dentro in 24 Attenzione attenzione Uè Luca Il nostro wasabi Attenzione Dentro così Non vedo movimenti strani Ok Shield da 50 Non mi interessa Che sfiga Ho preso di nuovo il portale Incredibile Incredibile Safe ancora lontanissima Andiamo 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 in safe Andiamo in safe Poco materiale Grazie Fabione Allora le 10.30 faremo il video ragazzi Ok Non prendo il portale per non far bordello Quanto mi da questo coso gigante 3 C'è il cesto C'è chi no c'è chi no c'è chi no Un minuto Niente cecchino ma cambia la mitraglia La prendo un po' più cattiva Niente portali niente portali Vai 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 Mi serve il cieco Mi serve assolutamente un cieco raga Via kit medico Non serve a niente in questo modo In cui sto giocando Non mi serve a nulla Andiamo 8 secondi a parte la safe Nessun cieco dentro purtroppo Non posso più azzardo Ho preso di nuovo il portale Basta buildare Andiamo da qua attenzione No l'RPG lo tengo per il fight finale 1 e 39 C'è una casa di munizioni Questo no Non assolutamente nulla Siamo dentro in 15 Attenzione raga Stiamo giocando Stiamo giocando ve lo ricordo La solo showdown Stiamo Cercando di camperarcela male Perché più camperi più fai punti In questa modalità Quindi attenzione così C'è sto sopra la Non c'è Ecco Perché non mi dà il cieco Vai 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 Come sempre ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Per essere qui A guardare la live Non so in quanti siete Ma vi ringrazio comunque Per essere qui A divertirvi Dopo questa partita Cominciamo a giocare Con i donatori Ve lo ricordo Grazie davvero a tutti Per passare un po' di tempo Con fortnite Con lo xuderone Lo zio xuder Allora attenzione Vuol dire che palmetto Non era loot Incredibile Questo palazzo non è loot Mi serve un cieco Mi serve un cieco C'è una porta aperta Qua è tutto aperto Ma che ci trovo dentro la gente Ma come Cacchio non ho luttato 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 Cassato degli attrezzi Ancora attenzione Vai 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 Siamo ancora in 9 Attenzione Sì fa ancora lontanissima Incredibile 1 e 0 9 Tanto bello quanto pericoloso Questo loot Mamma mia che loot che ho trovato raga Mamma mia Chiedo scusa se mi state vedendo camperare ma Via Via Non mi interessa Sono dalla parte opposta Vai 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 Cecchino Mi serve il cecchino Colpi non mi interessano Colpi non mi interessano Sta per chiudersi di nuovo la safe Dobbiamo continuare a correre Siamo dentro in 9 Attenzione Attenzione Vai che andiamo Vai che andiamo C'è una roba leggendaria di là Ma non mi posso Non mi posso fermare Non mi posso fermare Non cadere in tentazione Vai che andiamo così Ok Inizio a vedere le prime costruzioni Non mi serve prendere colpi Mi serve solo un cecchino Continuiamo ad andare in safe Paura che mi possa prendere Attenzione alla tempesta Annoitato un C'è per forza gente qua Spera che non ti vedano Spera che non ti vedano Forse non c'è nessuno Raggiungiamo comunque la safe Attenzione Ah può essere Marco Può essere Ok rientriamo nel green Sono vestito apposta di verde Per essere molto meno visibile Qua la situazione Diventa a mio favore Abbiamo la vallata Che mi aiuta Non abbiamo il cieco però E senza cieco Si fa ben poco Cerchiamo di correre Nella nuova safe C'è nessuno di là Distributore bianco Ryan Buongiorno Attenzione 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 Siamo in 6 Siamo in 6 Money talks Money 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 Yo Gialla gialla Eh lo so Adway che è più bello Quando gioco da solo Bravo L'importante non è fare le kill L'importante è sopravvivere Raga Cioè è ridicolo mettere A rischio Tanti punti per 6 punti di ogni kill Poi se uno è straforte Oh Minchia gg per lui Gente Non mi muovo Non mi muovo assolutamente Siamo in 6 No ma che costruisci Ma sei ma Più urle Grande Money 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 Blin blin can stop e si si lo so Porcher lo so Lo so Solo aver paura Fino al 30 Dura questa sfida Siamo dentro di 6 Attenzione Attenzione Come non si vede la donazione Minchia non c'è la letbox Ryan Grazie raga Stiamo camperando male Uuuu Mò è dura muoversi E' una cagata quella che sto facendo Ma siamo in safe O mi arriva una cecchinata O non mi vede nessuno Pudono Putana O non mi vede nessuno Pudono Pudono attenzione attenzione mi vedono non mi vedono nick non mi vedono non mi vedono mi ha visto non fare il ciula siamo in 3 non mi muovono e lo so che vuole regolare pg quando siamo in due che lo puscia e non va a vincere E la fa chiudere con zero kill E la fa chiudere con zero kill Grazie per la visione